tradizionalmente i docenti di religione al termine delle lezioni dell'anno si incontravano si sono sempre incontrati in una giornata intera di formazione di scambio l'anno scorso questo non è potuto avvenire quest'anno abbiamo rinunciato alla giornata intera e accolto invece l'invito del cardinale arcivescovo ad incontrarci con lui in un momento che abbiamo vissuto martedì 22 giugno insieme a lui in cattedrale momento intenso bello intanto perché la sua presenza come lui stesso poi ha sottolineato è il segno di questa attenzione che la chiesa di bologna ha verso i docenti di religione che sono invitati a fare il loro mestiere importantissimo di professionisti della cultura della cultura in generale e a servizio della scuola ma con una loro appartenenza alla nostra chiesa alla diocesi i docenti hanno presentato al vescovo alcune loro riflessioni sottolineature diremmo parole chiave di questo anno per nulla semplice nel mondo della scuola bisogna ricordare che il vescovo ha scritto una bellissima lettera alla scuola che è stato per noi occasione di riflessione bene a partire da quella lettera è quasi in risposta i docenti tanti dei nostri docenti di religione hanno scritto riflessioni al vescovo ne abbiamo presentate alcune direttamente e sottolineando da un lato i momenti di fatica che i docenti stessi hanno vissuto le attese dei ragazzi abbiamo riflettuto anche sul senso dell'ora di religione anche dentro alla legislazione attuale ai rapporti tra stato e chiesa e poi alcune testimonianze di docenti che vanno in pensione hanno sottolineato di nuovo tutta la bellezza direi pur nella fatica la bellezza di essere docenti di religione di rimando il vescovo ci ha invitato ad essere attenti davvero ai ragazzi in nome di dio a riconoscere in loro l'immagine stessa del signore e quindi a servirli con tutto il cuore ad avere grande cura soprattutto degli ultimi o comunque di quelli che sono più in difficoltà e che rischiano di essere lasciati più indietro dalla nostra istituzione scolastica ci ha invitato ad avere grande attenzione nelle relazioni come poi diciamo il magistero del cardinale in questi anni ha sempre posto la sottolineatura su questa su questa dimensione quindi anche le relazioni con con gli altri colleghi ci siamo lasciati con alcuni impegni impegni ad aprire i luoghi e quindi a dare casa sia cioè soprattutto ai ragazzi che magari abbiano voglia di costruire con i loro docenti anche dei momenti al di fuori della scuola ci siamo lasciati con l'impegno a riflettere ancora sul senso dell'ora di religione e su come riproporla dentro alla scuola in maniera sempre di più laica attenta ma anche con tutta la ricchezza di esperienza e di patrimonio di umanità che ci viene dalla nostra esperienza di essere del signore di essere davvero uomini donne di fede in cristo risorto